Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale, oggi l'ennesima video haul, comunque ve l'avevo chiesto anche su Instagram se volevate vedere l'ennesima haul di Saldi, avete votato di sì per cui eccomi qua. Oggi vi beccate lo shopping di Bershka e di Zuiki, manca anche lo shopping di H&M e credo qualche sneaker, però credo di farvelo vedere, anzi ho già deciso di mostrarlo in un altro video, altrimenti diventerebbe stenuante. Fatemi sapere nei commenti se preferite dei video anche di 30 minuti o se, come in questo caso, preferite insomma che li divida in due perché altrimenti diventerebbe a parer mio un po' troppo lungo. Comunque oggi vedrete solo appunto Bershka e Zuiki, anche un nuovo arrivo che vi faccio vedere immediatamente, così poi riesco ad andare avanti nel farvi vedere tutti i sacchettini che ho qua davanti. Allora, mi è arrivato un altro pacchetto da Geulia, Geulia ultimamente mi sta contattando davvero di frequente e sono contenta, anche perché solo grazie a voi, insomma se le aziende continuano a scrivermi, per cui davvero grazie. Geulia è un brand che, sapete, produce gioielli, in questo momento ha una linea nuovissima, comunque ve la linko qua sotto nella info box, compreso, anzi credo che siano due i codici sconto, uno se non erro vi da il 10% e il secondo il 30%, comunque leggete tutto qua sotto se vi interessa. E vi faccio vedere di questa nuovissima linea che cosa ho scelto, è un gioiello puccioso, ve lo anticipo. Il tutto arriva sempre all'interno di questa cartolina, all'interno questa volta ho trovato anche un catalogo dove ci sono raffigurate alcune linee che potete trovare sul loro sito. Poi come sempre all'interno della scatola trovate il sacchettino che voi eventualmente potreste usare per fare un regalo, c'è sempre il bigliettino dove magari scrivere una dedica ed anche questa bustina con all'interno il panno per pulire il vostro gioiello. Passiamo ora invece a quello che mi sono fatta mandare, una collana e ho scelto questa in argento 925 con il pandino, ma che bello è, vi dico la verità ho intenzione di regalarlo ad Emma perché è bellissimo secondo me anche per una bimba, lei impazzirà perché ama i panda, tra unicorni e panda veramente a casa mia, tra cose di cartoleria e peluche, ragazze non so più dove metterne, comunque è bellissimo, come sempre è fatto veramente molto molto bene, bel gioiello punzonato con la sua pietra incastonata in mezzo alle zampine, insomma penso che lo vediate dal close up che vi sto facendo vedere, insomma dal video un po' più ravvicinato, e sono davvero contentissima anche questa volta, cioè Geulia è un sito serissimo che vi consiglio da tantissimo tempo e lo rifaccio anche in questo video e sono davvero insomma contenta di aver collaborato con loro. Ora passiamo allo shopping, direi di cominciare da Bershka perché il sacchetto, il primo sacchetto insomma che ho qua davanti, eccolo qua, pesco a caso a random ragazze, dunque innanzitutto vi faccio vedere il secondo cappellino che ho comprato da loro perché uno ve l'ho già mostrato in un video che magari vi linko se ve lo siete perse, anche questo era passato da 12,99 euro, facciamo 13 a 3,99 euro, l'ho preso immediatamente perché sono colori che io porto sempre, grigio, beige o comunque sta anche benissimo sul nero, mi è piaciuto tantissimo la scritta forever young ragazze, alla mia età bisogna sentirsi giovani dentro, per cui ho preso l'ennesimo cappellino, poi ho preso un'altra felpa, ma questa felpa si potrebbe usare eventualmente anche come abitino perché davvero nonostante sia una S, sì credo XS, comunque veste over, mi piace da morire da portare quei leggings, sapete che io li porto spesso, ed ha la scritta House of Mickey, bellissima, in questo color grigio, in più ha le tasche ragazze, essendo lunga hanno applicato anche le tasche a scomparsa, eccole qua ve le faccio vedere perché di sicuro non ve ne sareste accorta, eccole qua che mi hanno fatto impazzire subito perché lì per lì la felpa, vabbè sì non è che ha niente di particolare a parte la stampa, però quando l'ho indossata e mi sono ritrovata, io sono un amante delle tasche, qua ai lati ho detto no vabbè in più è scontata, la devo prendere, questa è felpata per cui ho un tempo limitato per indossarla, ma di sicuro me la vedrete in qualche video o in qualche storia di Instagram, però insomma di sicuro la indosserò a breve, e questa ragazze da 30 euro era passata a 9, come si faceva a lasciarla lì? Impossibile, ho dovuto prenderla, per cui l'ennesima felpa, poi ho preso ragazze, io non lo so, però ogni tanto nel punto vendita, perché purtroppo ne è rimasto solo uno, qua Verona di Bershka, ho notato nei vari giri che ho fatto in questo periodo, che molti capi spuntavano magicamente da un giorno all'altro, nonostante magari io fossi passata il giorno prima, per cui ogni volta che vado da Di Geo, perché qua Verona di Bershka si trova purtroppo solo da Di Geo, perché il punto vendita del centro l'hanno chiuso, ragazze, da un giorno all'altro io trovavo davvero delle meraviglie, per modo di dire, nell'angolo saldo. Ragazze, io questo maglioncino di Hello Kitty non l'ho mai visto in stagione, è di una morbidezza che voi non potete capire, lì per lì ho detto forse è un po' troppo crop, però per fortuna ho trovato la taglia M, c'era anche la XS e la S, ma risultavano un po' troppo strettine e per me è un po' troppo corte, questo invece è tenuto anche un pochino più svasatino, un po' più aperto, vedete tra l'altro quando l'ho provato l'ho lasciato aperto l'ultimo bottone, è portabilissimo per quanto mi riguarda, perché io non amo le cose troppo striminzite, ma io vorrei davvero farvi toccare la morbidezza di questo maglioncino, è una coccola con la C maiuscola, in più cosa vi devo dire, addirittura il faccino di Hello Kitty qua, cioè non potevo assolutamente lasciarlo lì, purtroppo non ho più lo scontrino, mi sembra di averlo pagato anche questo scontato 9 euro, ed è bellissimo, soprattutto il punto di rosa. E poi, cioè, anche lei mai vista, ma davvero mai vista sotto i saldi, sicuramente magari in stagione l'avevano, ecco nel frattempo spostiamo il sacchetto perché non voglio farvi sorde, sapete che io amo le stampe, soprattutto sulla schiena, amo le giacche, guardate che cosa ho trovato, guardate che cosa ho trovato, no vabbè, no vabbè, un amante di Snoopy come me, tra l'altro la stessa stampa, ve l'avevo mostrata sul jeans sempre preso da Bershka, ad inizio saldi, che mi aveva fatto impazzire tanto per cambiare, per cui figuratevi, quando ho visto questa giacca, nell'angolo saldo, che non lo so, non l'avevo mai vista prima, non so se magari hanno avuto dei trasferimenti da altri negozi, comunque insomma, appena l'ho vista scontata, c'era la mia taglia, l'ho comprata immediatamente. Questa era andata, non c'è il prezzo sopra, comunque credo anche lei di averla pagata non più di 12 euro, ma credo 9 euro anche lei, bellissima e adattissima per l'estate ragazze, cioè questa è meravigliosa anche come punto di colore, per cui sono davvero stra stra contenta di questi ultimi saldi. Per quanto riguarda i suicchi, intanto sposto di qua il sacchetto, sono stata in due negozi, ecco perché ho due sacchetti, nel primo ho fatto un completo, visto che il punto di marrone è identico, ho preso questi pantaloni in, sembra lana, adesso vi leggo la composizione, sarà un sintetico, è un 45 rayon, 37 poliestere, 18 nylon, vabbè però al tatto dà proprio la sensazione di essere lana, un pantalone come potete vedere svelto, molto semplice e comodo, soprattutto per chi ha la culisse in marrone, contate che io l'avevo preso in stagione anche nero, lo stra uso, pagato credo 10 euro, sì, veniva 16, che è un pantalone che io ho direzione di utilizzare esattamente tipo tutta, nonostante non sia in felpa, vedete che ha l'elastico anche in fondo, al quale ho abbinato questa felpa crop, ma davvero, davvero carinissima, anche lei non l'avevo mai vista o comunque notata in stagione, contate che da Zuiki di solito esco, entro, oggi non ce la posso fare, entro solamente durante i saldi, magari per trovare quel capo, insomma da poco per andare a lavorare o svelto, come in questo caso, da portare magari in un giorno dove non ho bisogno di vestirmi particolarmente elegante, e non ho voglia di spenderci chissà cosa per delle tute, magari di marca, per cui insomma, come potete vedere, sono riuscita a fare un bel completino. Su quel pantalone ho trovato questa felpa, il punto di colore è identico, cioè si sposano perfettamente, e anche la felpa, no, anche la felpa l'ho pagata a 10, no, l'ho pagata a 15, veniva a 20, vabbè, la scontistica comunque era uguale, vi ripeto, è crop, ha le maniche a palloncino, vedete che sono molto più larghe qua sulla spalla, e ha il cappuccio, e questa è garzata, per cui di sicuro me la porterò anche per la stagione più avanti. Invece nel secondo punto vendita, e qua sono stata proprio ieri, ho preso una semplice camiciona da mettere anche lei su un leggings, su un pantalone un po' più stretto, è una classica camicetta a quadrettini che non ha tempo, cioè credo che un po' tutte nell'armadio o l'abbiate avuta, o l'abbiate, con questa stampa, perché, insomma, spopola in questo momento, non so se avete notato che vanno tantissimo i quadrettini, ma comunque non sono mai passati di moda, ho visto anche dei giacconi quest'anno con un quadro un po' più grosso, che a me piacciono tanto, per cui, insomma, niente, era scontato, ho preso anche questa felpa, questa camicia felpata, credo anche lei a 10 euro, perché non so se entrate mai da Zuiki, ma spesso sotto i saldi, per quanto riguarda capi spalla, camicie, felpe, loro scontano e arrivano quasi sempre ai 10 euro, trovate tantissimi capi scontati a 10 euro. Ho preso una S, ed è davvero molto molto carina, anche qua, insomma, un capo svelto, semplicissimo, nulla da dire. E basta, ragazze, sì, credo di avervi fatto vedere tutto per quanto riguarda Bershka e Zuiki, aspettatevi di sicuro un prossimo video dedicato a H&M, ecco cosa mi è venuto in mente, sono stata anche da OBS, vi ho già spifferato che cosa ho acquistato tramite le storie di Instagram, ma so che alcune di voi non ce l'hanno, per cui non sanno che cosa ho preso, per cui lo vedrete nel prossimo video, e niente, guardate la infobox per quanto riguarda Giulia, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!